Il TV è una realtà che continua ad essere seguita sia sul web ma anche sui canali del digitale terrestre, quindi legati al circuito rete 8. Giulio Gennari, autore di questa idea innovativa che ha ormai quasi raggiunto le 160 puntate. Sì, 160 e andiamo oltre perché ricordiamo che noi abbiamo questo programma che è settimanale e quindi rete 8 ci aiuta ovviamente a divulgare un attimino questo format insieme allo smartphone. Oggi il mobile abbiamo, diciamo i dati ci danno ovviamente delle risposte positive appunto che tutti i filmati vengono caricati dai direttanti e professionisti direttamente su queste piattaforme e noi ci siamo allineati dando sempre una giusta informazione e soprattutto tanto rinnovamento. Sì, anche perché i servizi sono sempre nuovi, sempre comunque puntate nuove ogni settimana, non abbiamo avuto nessuna replica. Noi ci stiamo organizzando appunto per dare comunque un grande, cioè la parola a tutte le attività, le nuove iniziative, tant'è vero che da studio tutti i lunedì ospitiamo tantissime persone, chi deve lanciare un disco, chi deve promuovere diciamo qualcosa a livello editoriale, dalla cultura, allo spettacolo, alle palestre, ci stiamo organizzando appunto per tutti gli sport che devono comunque comunicare, farsi comunque conoscere, noi gli diamo ovviamente degli spazi. Questo piccolo spazio che può essere chiaramente anche legato ad un contatto che possiamo avere con chi fosse interessato in questo momento e vuole in qualche modo promuovere la propria attività potrà contattare direttamente Gista del TV. Sì, diciamo che noi abbiamo un contatto, un ufficio allo 085 4211 443, siamo presso il Molino De Cecco e poi niente, ci possono comunque contattare su Facebook, contatto Giulio Gennari, piuttosto che sul nostro sito che è www.giuliogenari.it Ho visto anche sul web, tantissimi mi piace, sulla pagina proprio legata a G-Style, quindi un prodotto che funziona anche con l'utilizzo e con l'immagine, con la foto che viene immediatamente. Ci sono tante joint venture, oggi bisogna capire una cosa che ahimè da soli non si sbarca il lunario, bisogna, l'unione fa la forza e chi si occupa di comunicazione bisogna comunque trovare la spalla giusta per portare avanti ovviamente delle idee, delle filosofie, cosa che noi ovviamente facciamo e siamo aperti a tutto, anzi qualsiasi attività inerente anche alla nostra, non chiamiamo neanche concorrenza, ma comunque sono persone che fanno comunicazione e insieme sicuramente possiamo comunicare meglio le nostre iniziative. Una comunicazione a 360 gradi, da quello che può essere una riunione di auto d'epoca all'evento di moda dedicato al mondo delle spose, abbiamo fatto veramente di tutto in queste ultime puntate. Noi ci stiamo organizzando adesso per i nuovi eventi legati, appunto noi abbiamo fatto Emozionando, Emozionando, curiamo da sempre a questo punto la fiera regionale degli sposi, quindi siamo attenti un po' a tutte le attività, perché il nostro obiettivo è quello di fare bene e cercare di farlo sempre. G-Style è uno stile particolare che avete imparato a conoscere, ci ritroveremo con Giulio per parlare di tutte le altre innovazioni anche nei prossimi giorni. Noi chiediamo a tutti quelli che ci guardano e vogliono capire come fare, come fare ancora meglio, ci vogliono dare anche dei consigli, perché noi siamo aperti anche e soprattutto a questo, appunto potete farlo allo 085 4211 443, se volete venire in studio noi abbiamo ovviamente un'accoglienza a 360 gradi, mi ricollego a Stefano, appunto per cercare di comunicare tutte le iniziative nuove che abbiamo in regione e anche oltre. Quindi restate sintonizzati con G-Style. Grazie per la visione!